Grandelius Donchenko, il bianco ha il pedone in più ma il nero è il re molto più attivo. In questa posizione il nero non vuole far altro che entrare con il proprio re per eliminare il pedone avversario e quindi torre 1 del bianco vuole evitare l'ingresso della colonna di del nero altrimenti seguirebbe torre d1 con conquista e guadagno della torre avversaria. Quindi torre d2, qui è molto interessante vedere come il bianco riesce rapidamente a migliorare la sua posizione f4 blocca il pedone in e6 in una posizione più arretrata quindi attiva il proprio re e dopo la proposta di cambio delle torri il bianco l'accetta può darsi che qui il nero abbia analizzato il re per h5 come variante ma dopo la spinta di entrambi i pedoni effettivamente questa posizione tende al pari entrambi hanno promosso una regina e chiaramente ci sono buone possibilità di dare uno scacco perfetto in realtà in partita il bianco gioca g3, il nero si allontana e dopo qualche mossa raggiunta questa posizione il giocatore tedesco abbandona perché il re del bianco è in grado di mangiare più rapidamente del nero tutti i suoi pedoni e quindi chiaramente riuscire a promuovere.